E' in corso dalle prime ore di oggi un'operazione condotta dai carabinieri e dagli agenti del commissariato del gruppo di Torra Annunziata che stanno dando esecuzione a più ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 12 persone gravemente iniziate di associazioni di tipo mafioso, estorsione, danneggiamento, porto e detenzione di materiale esplodente, tutti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di affermare la supremazia di un nuovo clan a Torra Annunziata, denominato Quarto Sistema. Gli inquirenti stanno cercando di stroncare sul nascere e l'emergere di un nuovo clan ed evitare quindi il diffondersi della criminalità organizzata nella zona, oltre a contrastare gli altri fenomeni malavitosi già esistenti sul territorio. Tra i rischi, infatti, c'è quello che l'emergere di un nuovo clan possa innescare una nuova guerra di Camorra.